Si è svolta un'importante operazione di controllo nel Parco Sicuro Riserva Sele Tanagro. Sono state infatti svolte nuove azioni di verifica da parte del nucleo Guardie Giurate Accademia Cronos, sezione provinciale di Salerno all'interno della riserva Foce Sele Tanagro e Monti Eremiti Marzano. L'operazione, che ha visto impegnate due squadre di Guardie Giurate, ha consentito di controllare l'intera fascia pinitata dei comuni di Capaccio ed Eboli, al fine di accertare e controllare la presenza di raccoglitori di tartufi, ma anche il rispetto della normativa di settore ed il regolamento della riserva. I controlli, che hanno consentito di identificare oltre una decina di raccoglitori di tartufi, ha consentito anche di poter verificare la regolare iscrizione e microcippatura dei cani impiegati in tale attività. Nei prossimi giorni le operazioni proseguiranno al fine di monitorare tale attività, ma anche l'attività venatoria all'interno dei laghetti presenti sull'intera fascia costiera. In una nota su Facebook l'Accademia Cronos, sezione provinciale di Salerno, ha postato. Si ringraziano le forze dell'Ordine per il costante supporto al personale volontario e tutti coloro i quali, anche in forma anonima, segnalano criticità o situazioni di degrado.